Secretario, ripartiamo Italia, dove vuole ripartire Forza Italia in Capitanata? Forza Italia in Capitanata è ripartita già un paio di anni fa, oggi accogliamo con grande entusiasmo questa manifestazione, questo format nazionale proposto dal settore enti locali che fa tappa a Foggia perché stiamo girando l'Italia come Forza Italia per poter far ripartire il paese più che altro e quindi tornare al governo dell'Italia. Forza Italia innanzitutto oggi ringrazio Marcello Fiori per aver voluto organizzare a Foggia questa importantissima Kermess su temi dell'agenda politica nazionale ma che vedono protagonisti gli amministratori locali, coloro i quali sono davvero in trincea, coloro i quali sono i rappresentanti delle istanze dei cittadini e soprattutto talvolta anche delle lamentele degli stessi. Noi abbiamo in questo momento il grido d'allarme che dobbiamo levare a voce altissima del taglio che lo Stato centrale sta perpetrando da troppi anni rispetto agli enti locali che devono erogare dei servizi, mi rivolgo esplicitamente ai comuni, che lo devono fare aumentando le tasse ai propri cittadini. Questo è assolutamente ingiusto e illiberale, la nostra compagine politica Forza Italia ovviamente è portatrice del concetto einaudiano del non tassare i cittadini ma è di erogare i servizi per tramite di un'apertura economica che fa sì che le cose vadano bene perché se aumentiamo le tasse gli imprenditori non investono, gli studi professionali chiudono, la città muore, qualsiasi, non soltanto Foggia. Quindi Forza Italia parte e riparte da questo concetto fondamentale e naturalmente saremo certi che le prossime elezioni che vedranno a livello nazionale i vincitrici del centro-destra vedranno una pagina diversa per l'intera nazione.